Buonasera e benvenuti in questo intanto in cultura, stasera il nostro scontro è consagrato a letteratura corza, ho vato di scrivere in lingua corza, riceviamo due autori, Filippa Santoni e Marcetto Giurekzec Buonasera a Tremendù, vi ringrazio di aver accettato di venire insieme qui, abbiamo da parlare prima di vostri scritti dopo allargheremo un po' il dibattito, mintoendo le difficoltà, diciamo anche i castigli che dicono che ne hanno scelto di scrivere in corso oggi, Filippa Santoni siete una giornata scrittrice, vostro primo romanzo che è esciuto anno da casa edizione Omara, si intitulava Da Parigi in Senatè, allora c'è una storia di una giornata omosessuale che conta un'epoca di esperienze, ma mi pare che fino ad ora, questo soggetto qui fosse stato poco trattato dalla letteratura corza. Il verbo è già stato ammintato da Marcetto, giusto appunto, quando si aveva tutti i guaii. C'è un personaggio che è omosessuale, ma nemmica ugorre di un romanzo. Ecco, ma qui, per me libri mi piace mica di dire che c'è ugorre giusto appunto di un romanzo, perché per me questa tematica giusto appunto di l'homosessualità sarebbe di fatti un certo tema, perché per me la tematica maio è la storia d'amore. È una storia d'amore da una donna o un'antre, in tutti i casi. Allora, a narratrici o nemmica nomato, so che è sempre una questione che vuolta quando si parla, on dirà quasi sempre quando si tratta di letteratura, è un po' a Filippa Santoni che mi diceva che l'ulti si vatti qui o è qualcosa di proprio inventato. Qui, di fatto, c'è una scelta di scrittura, perché c'è qualcosa che ha giuvato pa' i due primi ragolti di prosi poeti, c'era sempre un po' questo dubito in giro a un narratore o a un narratrice, e c'è qualcosa che giuvoso tutta una di noi pastore i brugli. Tutti, adesso, non conto di sa parmi che c'è un po' a vostra vita o va costante? C'è un po' di tutto, di tutta maniera penso che quando noi scriviamo, scriviamo sempre un po' di petto a ciò che noi avevamo in giro a noi. Tanto c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto. Mme Bovary, c'è moi, c'è un po' di ingrindo. C'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto, è un po' di tutto. C'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto. Allora, prima, di fatto, c'è un testo che ha già scritto per me, perché l'ha già scritto quando c'era il confinamento. E dopo, ho avuto la fortuna di scontrare Marco Biancarelli per fare un'emissione. E abbiamo discorso insieme e l'ha già parlato di tutto questo giù. E era interessato, e tanto l'ha già mandato e di a parte di da giù che c'è stato questa idea di pubblicazioni, perché prima non era mica un escopo. Allora, la idea di va qualcosa in giro a questa tematica, perché ci pensai d'appoi l'eustezo, di fatto. Ma l'eustezo è tutto il premio di Olimpogorz per l'eustezo. Quindi, ci pensai, ti sento a Marco Biancarelli, che ha scavato di parlare, e posto che Iedolino ha scritto un po' così, certo, un po' sporco, ciò che tanto era, quantunque, rarissimo nella letteratura l'orza. C'è un'influenza o è giusto il sconto che c'è fatto? Non, ben inteso, c'è di non un'influenza, perché penso che l'autore che ha già letto parlo più in lingua corza. L'autore che voglio scrivere più in corza, ne parleremo dopo. Perché, Giorexec, ha ostra maniera di scrivere le tematiche che vi interesse in Tannipoga, che vedo in cucchi di di Filippa Santoni, pur se voi siete un po' più anzianetto, scusetemi, 7-3 minuti dell'istessa generazione, una generazione che vissuto rompa con una certa letteratura, letteratura di agorza che termina, quindi che si gariaia una nostalgia tamanta. Sì, sì, ma è vero, ma c'è di riconoscere un affare che questa rompettura era già stata fatta da un riacquisto, da un livello di pochi, forse mica tutti, ma un livello di pochi di scrittori che si sono messi a un pinna a partarsi dall'anno di Tanta a Tanta. Vabbè, vale a dire che il paese era sempre un retropiano, vale a dire che era un luogo di speranza, forse anche di rinascita della cultura, era vista così, ma c'è di riconoscere un affare che l'autore che ha una parte ma ristraria, è più megaso, per esempio, Parinato Goti, la giuditta parecchie volte di Diacchi, è stato l'autore che mi ha influenzato più. Boh, una volta che abbiamo detto lo sa fare, come va per scrivere altri affari che ciò che non scriviamo oggi, posto che noi non abbiamo una realtà materiale, che non ha più niente a chi vera, che qui da di 20 anni o 30 anni va? Ma in questo punto mi ha aumentato di nuovo un po' i vostri scritti. Poco va, ti cazzo di Albiana avrebbe, è una manata di novelli fantasiosi, mondi e civilizzazioni antichi che finiscono, credenzi pagani che pigliano la soprano, mondi nuovi che nasce in un nome futurista in certe volte, d'una certa maniera pare che avete voluto dire che i tempi non sono mai eterni e che anche questa società moderna oggi può darsi chiamata a giugna fino a un giorno. Ma in fine è qualcosa che va a cuisopere, basta prendere un libro di storia, che può avversare e che in civilizzazione sono fatti passi un po' all'uso, se non prendiamo un paragono naturalista, un po' come un essere rui, nascere, giugnere un punto, una forma da pugieppo, dopo morire, e non usare adesso così, perché mica. Ma c'era un'altra voglia, in fin di conto, in questa raccolta di noi, e che c'era la voglia di fare vera che pur campendo una situazione abbastanza pessima, in fin di conto, quando noi siamo scrittori in lingua gorsi, non paremmo mica va altrimenti, che affeggiurano le situazioni della nostra cultura e della nostra lingua. E dunque, io penso che è fantastico una maniera anche di essere a tempo una scappata e una cittadina, e un luogo di resistenza, in letteratura, è una tematica che mi aiuta a me, in quanto scrittura, resiste alle condizioni che sono fatte alla lingua e alla cultura. Po' d'arte che se temati che avete sviluppato in Trenta avrebbe, avere questa situazione, esiste in altra, la civilizzazione che può morire, e i cambiamenti che giugna, ma po' d'arte che ho vato di scrivere in lingua gorsi, che è una lingua, con tanto un saluto, c'ho di dirla, va dato di più a volte di andare con Trento. E io, perché pare che noi tocciamo il diritto a vinto un mondo, a vinto un mondo, perché il mondo non muore mai. Bu, a vinto un mondo, un osso, per esempio. Allora, a me da minuto un altro libro di vostro, conservato di Guai, ne ho parlato poco fa, di la storia d'Andrea e di Uso Babbo. O Babbo è un militante politico dell'anno 80 che partecipava all'evenimento di Bastia di Gaffè, e è un uomo che fa ciò vanto di la lingua e di la cultura gorsi, ma l'affare non so tanto, sono un po' a befo, infatti, i tempi di Ueduto e di Abaretta Migio sono passati, è una bandera che sventolò di non faccio mica una cultura. Qui, di una certa maniera, c'è un vignolo che campa male la situazione, è una maniera di interrogare può darsi, diciamo, un scarto che ci può essere da un certo discorso all'identità e alla realtà di questa identità e di questa cultura. Io, di una certa maniera, sì, in fin di conto, in Trento, quando si è avvato di là c'è una doppia rivolta. C'è la rivolta di Uo Babbo, che è un fiasco, quella di una rivolta contro una situazione un po' sottomisso che è in traccia di muro. Uo Babbo si è rivolta ma faccio una gattia scelta, una scelta di una nazionalista e accannita, anche vanattica in una certa maniera. E io, di un vignolo faccio ad un uo una scelta che è uno sbaglio, un rivolto individualista, cioè a me è molto così, allontanasse il più possibile da tutti i gattini e da tutti i pastoggi che sariano i comunitari. Ecco, c'è, in fin di conto, una risposta a su doppio viasco avendo un romanzo, ma è vero che è sempre prendendo conto la situazione da Corsa come è di oggi, vale a dire che ci pare di essere in una situazione di viasco da un punto di vista comune. Sicuramente ci sono i risciti individuali in Corsica, ma ci sono gente che sono battuta per s'affare. Filippo Santoni, diciamo su un peso di la sua città, di una rivendicazione pari o indicazioni di abanderare di un discorso in lingua francesa niente a lingua gortza, le tesi in tutto vuole di no? Io no, francamente, io ho avuto la scelta di scrivere in lingua gortza perché di rame lingua di scrittura e di aver che non c'è mai stata una rivendicazione. Manco il nome mistiero, io ho avuto la scelta di saprò di lingua gortza. Il peso di una certa rivendicazione che è permanente nella società corsa, le tesi in tutto vuole di no, che è certi volte allontanato da avere la cultura che è di continuare a capicciutare in una certa maniera posto che la lingua si parla di meno, in tutti i casi se lo si pide il punto di vista qui. Ben inteso di un constato che non abbiamo ogni giorno che dovevamo in carugio in collegio o in liceo vediamo. Dopo penso ci può darti un peso un po' troppo maio nella scuola di aspettare a creazione di un liturato semplicemente o manco di locutori in lingua gortza. Ma qui c'è piuttosto nemmica di petua a lingua sare piuttosto semplicemente di petua all'identità e soprattutto par rapporto all'orientazione sissuale perché in Parigi un nemica come in kurz un nemica di pedo in deno ma un nemica di stessa maniera di gam pal a far un nemica di un nemico Si può scegliere di Watt, non so come ci voglio domandare a Filippo, ma io non ho scelto di Watt. Mi è venuto così, mi è venuto così, mi è venuto così, mi è venuto così, quando scrivo un francese, un coppio meno auale, ma morre quando ero più giovane, sentivo il peso quando ero in un'istituzione letteraria e ero impressionato dall'autorità amante che ne aveva storiato in scuola e che gli dice io. Il corso mi permette a giusto appunto di sfrancarmi dal suo sguardo qui, dal suo peso qui. Il primo punto, il secondo punto sicuramente era l'impegno militante, era la voglia di dare qualcosa, una pietra, una pietrice d'ancheio, a continuazione di questa cultura e di questa letteratura. Ecco, non so mica se tu si sceglie, per arrivare a scegliere, a volte in coscienza si, per arrivare a una scelta di continuare a scrivere un corso, qui sei sicuro. Filippo Santana, voglio dire che in un certo modo, non è che tu non hai scelto? E per me, di aver, on era mancappone un'impegno militante, ma di aver dopo se da po' gioa qualcosa a lingua gurtza e a litteratura gurtza tanto me, ma dopo... non so come se posso dire di una scelta, se è fatta così, ho scritto qualche testo in francese, ma mi sento di più libero a scrivere in lingua gurtza. Allora, c'è ciò che noi diciamo qua, ma c'è di un altro fatto, boh, c'è, diciamo, il suo fatto che si impone a voi quando voi scrivete, ma qui tu gli scrivi, si può pensare che tu scrivi per essere letto, e qui chi ne è di un liturato? Per esempio, ti avete regolarmente niente che vi dice ne ha di letto il vostro libro o poco? Poghe, sono poche, per me, a conto mio, sono poche, quindi leggine, ma c'è di prendere un conto la situazione della società cursa, vale a dire che un liturato di regola, l'abbiamo dita, è creato da una scuola, è una scuola che assicura tempo a creazione di un liturato e a promozione di l'opera, in fin di conto, ci ne veniamo tutti di Lagare e Michel, di l'antologia della letteratura francesa, noi siamo, l'insegnamento di un corso in scuola non è mai fatto per creare un liturato, per creare locutori, è fatto per testimoniare dell'esistenza di una lingua in un territorio e basta, chi vuole attivare con tre ore a settimana? e saremmo straordinari, riuscissimi a creare locutori e liturato, è stato un po' impossibile secondo i giorni qui. mi pare che per l'ultimo, diciamo, 400 azimplari, quando diceva un libro in lingua corso dopo, beh, l'intesa un tipo di paragone. Quattro c'è anche un bel diia per un libro in lingua corso? Beh, io mi ne vengo qui, c'è un libro che sarebbe, uno dei libri in lingua corso che si è venduto più, è un libro di Parigi, che è senatore, Padilla. D'accordo, è un ragazzo di Padilla e di poesia, più di mille esemplari sarebbe venduto, è prova di già. Un best-seller. Beh, il locatore, gente che lege di maniera regolare il corso, ce ne sarebbe tra due mila e tre mila. Beh, da qui a comprare un libro, lege una poesia può darsi più facile che di comprare un libro e di lege lo sano sano, un romanzo, un vero impegno. Senza contà che c'è di un altro affare che ci prendiamo conto, è l'orizzonte d'attesa, in fin di conto, del liturato. Più il liturato, invece, e più l'orizzonte d'attesa è differente dal guido di scrittore. Perché noi scriviamo anche una realtà che è la realtà d'oggi, che non campiamo. Quindi che stanno in settant'anni, che stanno in legge il corso, forse aspettano dall'altra parte, dalla letteratura di un conveni mica. O spesso, quando Demo e Gorza spesso, un conveni mica, un conveni mica. Non c'è la sua solidità femminile, non l'uomo scappa per campare in continente una situazione di... Vaglio a prendere l'esempio, io ho ricevuto Mori Gritti con il Cautidiano, un libro che ho scritto tant'anni va. Il Cautidiano potrebbe essere ricevuto Mori Gritti, non perché c'era un gorzo e un francese. Non è mica Mori Gritti. Ha attivato questa scelta tanto di mettere i due testi, potrebbe essere più facile, in un caso così, e voce che avete fatto, da pari di insegnate, c'è la traduzione in francese. Questa è la traduzione? Forse sì, ma i gritti erano iunti per via di Amadina che dà ora a Gorzega, che certe persone non nemmeno capisce la vera Amadina. Perché se legano un libro in corso, non voglio nemmeno ritrovare, diceremo vado che non nemmeno capite andare nel supermercato, eccetera, un po' ciò che volete. C'è un po' di una certa maniera. C'è un po' di una situazione in cui un buon amico nemmeno bencizzò, il desiderio biscove, qui dove scrive nemmeno ci può, l'editore nemmeno ci può, qui dove la domanda è ciò che da concessi par a stagia, può darci 50 libri se la libreria è ben pensata, ci sono l'aiuto pubblico per aiutare quanti a chi nemmeno di questo punto di vista di lui. Perché non c'è un po' di un po' di un mondo di l'edizione. E' un po' di un libro, è ti domandato un aiuto? Non, è fatto con il Centro Cultural Universitario, con il primo, e dopo un cu' di Marco, e quindi un cu' di un edo che ha... E' un po' di un po' di un po' di un po' di un libro, perché è iscritto il primo libro, il tre il cu' di un mattina latina e a Cismenti e Pumonti, Non è la vostra casa di edizione, ma sono i vostri amici, e ti metto al tuo primario, a tutti i suoi studenti che vedi, se ti imprendiamo, si può dire, come vi è passato a tanto, siete stati aiutati o mica? La realtà delle edizioni in lingua corse è che senza aiuto pubblico un libro corse non esiste mica, punto e basta. Questa è la realtà. Ma in fin di conto non siamo andi mica. Ve la dico, non siamo mica aiutati per pubblicare, non pubblichiamo mica. È chiaro. Quindi mica pubblicazioni e risoluzioni può darti... No, ma voglio dire che se non ci mettiamo, se non prendiamo un libro come un prodotto di consumo che sarebbe sposto a regola della vendita di compri e di vendita, tanto non c'è mica, ma non c'è mica un libro corso così. Tutte le ragioni artistiche in Francia partono più da un'isubenzione. Per voi, dovete essere un servizio pubblico? No, non voglio mica fino a qui. No, perché ho difficoltà sempre quando si riceve i soldi pubblici e di mantenere una forma di libertà di creazione, sempre se c'è su pregoli qui, comunque che ci prendiamo conto. Ma io riconosco un affare in Francia. Quale voglio avere la creazione artistica, spesso riceve i soldi pubblici. Ci sono anche i giornali che sono aiutati. Una risoluzione potrebbe essere di scrivere altrimenti. Può darsi che, essendo la situazione della lingua corsa qui del Grunoscimo, sarebbe un bene, ma quello che scrive potrebbe essere di scrivere in maniera più semplice per dire, mi metto a portata di un lettore. È venuta qualche volta di lì, so che certe parole, certe mani di raccontare la frase, oggi, non so, più tanto in situazioni, avanti altrimenti. Io penso che, in una maniera di scrivere, è abbastanza vicina, giusto appunto, di l'Urral. Non penso mica che ci sono mica, dappre sempre, difficoltà maio, a livello di scrittura, di ulessi, soprattutto in l'ultimo romanzo, può darsi di più in dei prosi poeti, perché la tematica di Rasparenti, c'erano di più rivarrenzi, a mitologia, a Bibbia, a fare così, tanto ciò, può darsi ad avere altre unicenze a canto, ma o sinop, l'ultimo libro, dappre same, di una scrittura abbastanza capisci, toglie. Poi ci dovremmo essere che all'accordo, in questo punto di vista, dopo che ci sono più, la tua idea di scrivere, in maniera semplice, non si sa capisci, non è come la maniera di dire che, che scrivete, che non c'è guai a leggere, ma è comunque una realtà, che quando un'immun parla la lingua, o poi... il primo punto che ci riconosce, è che il libro è in crisi, non c'è un corso, primamente, vale a dire che i lettori, più va più ce ne può, anche pure un francese, il primo punto, il secondo punto, è che, è difficile quando tu riesci a esprimere, a creare, a esprimere un pensamento, con 300 parole. Ecco, dunque, io ho sforzo, sicuramente con il scrittore, certe volte, faccio uno sforzo, ma io, quando scrivo, non ho un po' di peso, del litorato, scrivo, con tutte le tracce, che taglio con me. Allora, ringraziamo il tremendo, quando tu, come con me, diciamo una notte un po' positiva, ci ricordiamo che, non saranno, è sortito, andiamo al piano, l'antologia della letteratura gorsa, ci rendiamo, dunque, 130 scrittori, poi è vero che comincia con Giovanni della Grossa, dunque, nei secoli passati, si sa che la lingua era doppata, poco scritta, oggi, quando un po' di più scritta, meno doppata, ma si rimarca, andiamo, l'antologia glicchia, a Vini, c'è tutto un capitolo, non tra l'autore moderne, voci siete, mi pare che io ci vuoi di nuovo, non ne vengo più, ma in tutti i casi, l'antologia c'è, e può darsi, a voi di scrivere, che c'è di noi. A ringraziarvi, ad aver suitato questa emissione, di essere un turismo conosco, così che da si rompia, su un tanto in cultura, subito e ritrovate l'attualità, Wurzica Zerva, è presentato oggi da Marianne Romani.